bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi finalmente il tempo è arrivato è una settimana è una settimana che me lo state chiedendo ma xyuder quando cacchio mi rilasci un nuovo promo code per what the hen beh beh cara rossita beh cara rossita con la nostra rossita ragazzi direi che è giunto il momento di darvi il codice di what the hen di oggi sabato 30 settembre e devo ringraziare xsports che velocissimo che li tiene controllati gli youtuber mi ha rivelato il nuovissimo codice che è appena stato rilasciato da charged monkey prima che io ve lo dia ragazzi vi ricordo da dan super pollicione in su per questo video se vi sta piacendo mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto quindi ragazzi ciancio alle bande bando alle ciance andiamo a cliccare in alto a sinistra dove c'è il livello del nostro personaggio e sul tasto verde poi codice promozionale ed andiamo a inserire ragazzi allora dannis crew dannis crew che pronuncia sarebbe dennis crew andiamo a dargli un bel invio e vediamo che cosa succede wasabi eccolo qua ragazzi il codice di dennis crew ci regala tre carte epiche e mille gold beh ragazzi direi che possiamo ritenerci soddisfatti per aver raggranellato delle monete così a gratis io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando condividetelo con tutti i vostri amici e noi ci vediamo prestissimo ciao